Sono contentissimo che in questi giorni la nostra città, Paro di Chioggia, Sottomarina, sia invasa dai turisti che stanno frequentando ristoranti, alberghi, B&B, appartamenti in affitto, cioè campeggi, stabilimenti baneari. Va benissimo, sono felice perché vuol dire che finalmente c'è anche un po' di fiducia e la città sta ripartendo. Però mi sento di dire una cosa, c'è anche il problema legato alla viabilità. Va benissimo tutto, le isole pedonali vanno benissimo perché si può vivere in tranquillità, in sicurezza anche la città, però mi sento di dire, perché proprio i cittadini me lo chiedono e anche qualche categoria economica, dobbiamo aprire Piazza Todaro dal traffico, perché lì anche ieri sera è stato un disastro la viabilità. Quindi dobbiamo cercare di capire, mi sento di lanciare un appello all'amministrazione comunale che ha responsabilità di governo, di aprire Piazza Todaro in modo che ci sia la possibilità di far cicolare le autovetture, se no si crea un imbuto in Viale Venezia e succede il disastro. Una cosa ci tengo da dire, ovviamente successo della nostra città, di Sottomarino di Chioggia, grazie comunque ai ristoratori, alle categorie economiche, agli albergatori, campeggiatori, agli stabilimenti baneari che stanno veramente dando delle cose di qualità ai tantissimi turisti che stanno invadendo la nostra città. Un'invasione bella, bella da vedere che porta felicità e sicurezza tanta gente.